Ciao a tutti, io sono il Dilan Drogofilo. Oggi recensione dell'album mensile numero 315, La Legione degli Scheletri. Copertina di Angelo Stanno molto buona. Questa volta infatti notiamo una particolare attenzione e una cura maggiore nella rappresentazione soprattutto del volto di Dilan. Molto ben riusciti questi tratti espressivi per una copertina che tutto sommato risulta essere anche graficamente in termini di colorazione molto molto buona. Molte sfumature di colore ben azzeccate. Testa e sceneggiatura di Angelo Stanno e disegni di Angelo Stanno. Sì, non sono impazzito. Questo infatti è un album molto particolare, tutto ad opera di Angelo Stanno. Il primo è per ora unico. Angelo Stanno come disegnatore, vedremo più avanti nel corso della recensione, si comporterà come al solito molto bene. Mentre per quanto riguarda testa e sceneggiatura c'è qualche indecisione da parte di quest'artista che appunto nasce come disegnatore e non come scrittore. Questo diciamo che il lettore lo nota. Dilan conosce una ragazza che si chiama Moena, una ragazza che sembra essere una strega. Una ragazza che tramite dei disegni molto strani ammazza indirettamente la gente. E qui Dilan dunque inizierà ad indagare su questo caso perché questa ragazza si presenterà a Dilan e vorrà costituirsi e dire che è stata proprio lei a commettere vari omicidi che sono avvenuti negli ultimi giorni a Londra in una specie di riformatorio per questi ragazzi disagiati. Quindi Dilan una volta che viene assunto da questa ragazza vuole davvero vederci chiaro, vuole davvero capire se questa ragazza dice la verità e se è davvero lei l'assassina che c'è dietro tutti questi misteriosi delitti. Ecco la storia è questa, Angelo Stanno non si spinge oltre la trama, non dico che è molto semplice ma comunque non racchiude colpi di scena particolari. Più che altro Dilan nel corso dell'avventura andrà ad indagare anche nel passato della ragazza una ragazza che si afferma con dei problemi diciamo mentali. Non è una ragazza a posto, da bambina è stata anche maltrattata da una sua zia che a sua volta aveva dei problemi mentali quindi un po' una situazione tendenzialmente critica per quanto riguarda l'aspetto interiore di questa ragazza. L'unica nota positiva e brillante di questa storia forse è il finale dove per l'appunto il lettore finalmente incontra quello che si vede già in copertina quindi la legione degli scheletri. Questi fantomatici scheletri appaiono solamente sul finale dell'avventura dove Angelo Stanno tenta di ricreare un po' un clima dinamico e di caos e soprattutto splatter. Un po' ripetitivo però adesso mi spiego meglio. Dunque questa ragazza inizialmente disegna appunto queste opere malvagie, viene rifiutata da questi ragazzi e quindi Dylan diciamo tenta in qualche modo di osservare i comportamenti dei ragazzi che circondano Moena e cerca proprio di capire l'aspetto interiore di Moena. Però fino a qui la storia risulta essere un po' piatta e quando Angelo Stanno vuole mostrare al lettore delle scene splatter diciamo ci riesce ma solamente in parte perché le scene splatter in questo albo risultano molto ripetitive così come la sceneggiatura. L'unica vignetta diciamo diversa dalle altre che spicca un attimino di più e fa un attimo brillare la storia è solamente questa. Vedete sì forse una classica uccisione del mondo di Dylan Dogg però comunque in questo tema di questa storia è davvero una scena ben ricreata. Invece le altre come vi dicevo sono molto ripetitive perché questi scheletri che escono dal cuore malvagio di questa Moena vanno a uccidere tutti i ragazzi che hanno sempre insultato Moena e quindi alla fine questa ragazza si è rivelata essere proprio piena di poteri malvagi. Quindi lei scaturisce questi scheletri e questi scheletri diciamo che vanno a vendicarla. Però come possiamo vedere in queste scene più che decapitazioni non avvengono quindi diciamo le scene splatter sono un po' noiose. Ecco nonostante l'azione dinamica incalzante rivedere sempre comunque in ogni singola vignetta la stessa storia non è una cosa positiva. Quindi più che teste mozzate nelle ultime fasi dell'albo non non si trovano. Detto questo Moena quindi che fine fa? Moena è vittima di un finale non troppo azzeccato. Più che altro perché anziché Angelo Stanno anziché creare un finale adeguato ad una storia che già non convince Angelo Stanno va ad attribuire a questa storia un filano un pochino ancora più piatto della storia stessa dove Moena muore semplicemente a causa di una malattia per un tumore al cervello. Quindi questa ragazza dopo aver fatto una strage dopo aver affermato pubblicamente di avere poteri paranormali malvagi muore semplicemente quindi giustizia non viene neppure fatta e Dylan su tutta questa storia non ci pone neanche una pietra sopra proprio Dylan sembra quasi fregarsene questa è quasi una storia che come viene va via quindi nulla di significativo. Per questo che Angelo Stanno si propone in questa storia come scrittore ma non convince particolarmente anzi a me personalmente non ha proprio convinto. Inoltre come vi dicevo oltre alle scene splatter ripetitive sono ripetitive anche proprio le vignette che in ogni scena risultano sempre uguali. Vediamo un po' adesso cerco di trovarvi un esempio ad esempio qui vediamo Dylan e Graucio qui ancora Dylan e Graucio vedete qui Dylan e il telefono qui Dylan e il telefono copia e incolla copia e incolla sembra tutta una storia formata da vignette copia e incolla nulla di eccezionale quindi anche da questo punto di vista purtroppo sia dai testi sia dalla sceneggiatura il lettore non ne trae una buona impressione purtroppo. la storia nell'insieme risulta comunque essere più che sufficiente non grida al miracolo come storia ma comunque è ben leggibile. Angelo Stanno che purtroppo però si conferma molto buono come disegnatore infatti i disegni risultano essere molto morbidi. Angelo Stanno che nel tempo è riuscito a devolvere la sua tecnica per quanto riguarda la rappresentazione soprattutto dei volti delle persone. come vedete Dylan rispetto agli anni 80 qui in questa storia ha un volto molto più verosimile alla realtà ha un volto più morbido e con delle espressioni più accentuate e poi ovviamente ritornano fortunatamente per la gioia del lettore i tratti significativi che hanno reso famoso Angelo Stanno negli anni 80 ovvero tutte queste diciamo macchie macchie controllate che Angelo Stanno dona occasionalmente in questa storia ai volti delle persone e che invece sprigiona totalmente in alcune determinate scene come questa vedete le sue solite il suo solito tratto distintivo e queste sottospecie di ombreggiature davvero molto molto buone. quindi tutto sommato una storia sufficiente come voto finale potrei dare un 7 do un 7 come voto finale perché diciamo Angelo Stanno si è catapultato questa volta solo soletto nel realizzare un intero albo dalla copertina al soggetto alla sceneggiatura ai disegni e quindi il voto finale sarebbe 6 perché questo albo è appena sufficiente però gli diamo un bel 7 per diciamo per come si può dire Angelo Stanno comunque si è impegnato quindi diamo alziamo il voto per l'impegno mostrato da Angelo Stanno che comunque realizza una storia abbastanza buona ci sono poi delle scene un pochino incerte dove il lettore non capisce troppo forse alcuni personaggi come può essere il padre di Moena che appare in maniera quasi onirica e che sul finale dell'avventura si rivelerà essere una persona non significativa per quanto riguarda la storia in generale quindi alcuni personaggi che potevano essere evidenziati maggiormente purtroppo in questa storia vengono un po' sminuiti con l'andare delle vignette Angelo Stanno avrebbe potuto approfondire dei tratti salienti che sarebbero risultati vincenti invece questa storia va mano a mano per sfumarsi in una maniera non troppo convincente e sempre meno chiara e piatta comunque se volete recuperarlo è comunque un albo molto particolare perché è stato fatto interamente da Angelo Stanno per il momento è tutto se questa recensione ti è piaciuta condividila dove vuoi e con chi vuoi iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sul mondo di Dylan Dog e noi ci vediamo al prossimo video dedicato al mondo dell'indagatore dell'incubo